Allora vorrei cominciare da ieri pomeriggio e da pochi minuti fa, dalle notizie che ho ricevuto su Noemi, ne parlo perché ho visto che adesso sono anche uscite notizie pubbliche altrimenti sapete che ho contraddistinto questa fase da una estrema e secondo me giusta e doverosa riservatezza, ma non vi nascondo che credo interpretando il sentimento di tutta la città negli ultimi minuti le lacrime si sono avvertite perché le notizie che arrivano sono davvero belle seppur gestite con molta cautela perché la situazione è ancora complessa ma siamo passati nel giro di pochi giorni da una situazione drammatica a una situazione in cui la vita sembra prevalere assolutamente sul male, quindi questo è straordinariamente bello e in una città in cui si mescolano le lotte laiche, le battaglie civili a un forte sentimento religioso o comunque diciamolo anche per chi non è credente di grande spiritualità quello che è accaduto nelle ultime 24 ore mi lascia pensare, mi lascia pensare a una vittoria del bene sul male, mi lascia pensare che in questa città ci sono tutte le componenti per far vincere il bene sul male, la reazione popolare, la rivoluzione culturale, un'amministrazione molto pronta e determinata, forze di polizia, magistratura, coscienza civica, medici bravissimi, una risposta straordinaria della città. Se a questo aggiungiamo che stamattina abbiamo appreso e mi sono subito complimentato, oltre chiaramente lo faccio adesso pubblicamente con la magistratura inquirente di Napoli e con il suo procuratore, con tutte le forze di polizia, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, un grande lavoro di squadra, grande capacità investigativa, poche chiacchiere ma molto fatti, questo è Napoli, questa è la capacità di reazione della città. Se a questo aggiungiamo quello che è accaduto in meno di 24 ore ieri su un'altra vicenda criminale che poteva gettare nel baratro anche tante speranze di un quartiere strategico della nostra città, ma direi di tutta la città, che la vicenda chiamiamola estorsiva avvenuta a Porta Capuana, da ieri mattina, da quando abbiamo saputo attraverso la nostra polizia municipale, dimostrazione del fatto che questa città con tutte le sue articolazioni sta con l'orecchio per terra, come si dice dalle nostre parti, abbiamo dato subito fiducia alle persone colpite, abbiamo trovato immediata reattività nella questura di Napoli e nel comando provinciale dei Carabinieri, denunce recepite, azione immediatamente messa in campo, fino a notte ci siamo sentiti col questore, l'imprenditore che aveva voluto dare un segnale, perché non è normale che si avvicinano dei presunti napoletani con una pistola a dire delle persone se ne devono andare se non pagano, lui ha caricato tre bilici e se ne è andato, nel momento in cui ha visto l'immediata reazione in meno di 24 ore del sindaco, delle forze di polizia e di tutte le articolazioni più significative della città, ho personalmente chiamato l'imprenditore che si stava dirigendo in un altro posto del nostro paese, è venuto immediatamente nel mio ufficio, sono voluti 10 minuti per convincere una persona che ha dimostrato di amare la città a ricaricare quei tre bilici e portarle lunedì mattina nella nostra città, perché questa è la città che sta investendo tanto denaro pubblico con le nostre forze, sta facendo gare con trasparenza, sostiene gli imprenditori onesti, chi viene minacciato deve essere immediatamente individuato e colpito, sono nemici della città, il messaggio lo ha voluto dare l'imprenditore però che se non si reagisce perde la città e quindi la difesa a questo punto deve essere di tutti, lo devono capire tutti, che bisogna fare vigilanza democratica, togliere qualsiasi forma di consenso a questi criminali, insomma io credo che questa città sta dimostrando una capacità reattiva che penso non abbia mai avuto, nelle sue forze popolari, nella sua capacità culturale, in questa amministrazione, vedete che il livello di sinergia e di cooperazione istituzionale se in meno di 24 ore su una vicenda comunque criminale così delicata si raggiunge un obiettivo e si ribalta completamente, una situazione che sembrava negativa al massimo diventa positiva al massimo perché il messaggio che viene dato il criminale non passa e se a questo aggiungiamo l'altro risultato straordinario di questa mattina con il fermo dei presunti responsabili del duplice tentato omicidio di Noemi e dell'altra persona che era stata attinta da colpi d'arma da fuoco, credo che è quella risposta che la città chiede sempre allo Stato quando diciamo tocca adesso allo Stato capire che Napoli non è Afghanistan, che Napoli non è Medioevo, che Napoli non è allo sbando, anzi esattamente il contrario, sono questi criminali che sono allo sbando, quindi siccome sono allo sbando noi li dobbiamo colpire una volta per tutte e questo è il momento buono che la Napoli della vita vince contro la morte e che il bene prevale sul male, io ci credo molto e anche questi segnali devo dire di Noemi che dà una straordinaria forza alla città, guardate un po', la città si è stretta attorno a Noemi ed è Noemi che dà la forza alla città a una bambina di 4 anni, quindi io credo che questo è davvero un qualcosa di straordinariamente potente che ognuno di noi deve saper raccogliere come messaggio, come singolo e come elemento di una collettività così difficile ma così piena di energie positive.